Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana, in A1 fino alle 6 di domani 12 aprile per lavori, chiusi i tratti tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. In A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna c'è un veicolo fermo in avaria. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso. Sulla Firenze-Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze e Impruneta in direzione Firenze. Ancora sulla Firenze-Siena per lavori, chiusa l'uscita San Donato verso Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!